Si è tenuto martedì 13 febbraio, nell'auditorium della città metropolitana, il convegno di lizia scolastica, verso il nuovo piano triennale 2018-2020. Obiettivi e possibilità, organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con ANCI, UNCEM e Città Metropolitana di Torino, rappresentata per l'occasione dal consigliere delegato ai lavori pubblici e alle infrastrutture. L'intento dell'incontro era quello di offrire un panorama delle misure di finanziamento e delle risorse tecniche che possono essere messe in campo dalle strutture dello Stato della Regione e degli enti locali per l'adeguamento del patrimonio di edilizia scolastica dei comuni e sono state presentate le linee guida del nuovo piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020. Non solo l'edilizia scolastica è stata una priorità per il governo, per gli ultimi due governi che ha messo tantissime risorse sul tema, ma sono già pronte risorse anche per il futuro. Quindi la nuova programmazione triennale 2018-2020 partirà adesso a breve. Sono già previste un miliardo e tre di risorse di Mutu ebay e altre risorse si aggiungeranno dal fondo infrastrutture della ultima legge di bilancio. Quindi invitiamo veramente gli enti locali a predisporre i progetti, essere pronti perché sempre di più sarà premiata la progettazione di interventi che riguardino la sicurezza delle scuole. Quindi l'antisismica, quindi interventi strutturali, interventi che siano risolutivi una volta per tutte dei problemi sull'edilizia scolastica. Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione degli enti locali, tutti, quindi regioni, province e comuni, il fondo rotativo per la progettualità che consente agli enti di acquisire delle risorse finanziarie in anticipazione per poter redigere i progetti. Quindi favorisce la progettazione delle opere pubbliche e i conseguenti investimenti. Queste anticipazioni godono anche di un beneficio statale in termini di interessi. Quindi gli enti locali non pagano gli interessi, bensì restituiscono solo i fondi derivanti dall'anticipazione di liquidità, perché gli interessi sono a carico dello Stato. Il tutto per favorire la progettazione delle opere e degli investimenti.